Tiro fastidio? Vado via, eri qua. Tu non devi giocare sull'uomo dopo che ho fischiato, l'hai toccato e l'hai fatto volontariamente, non voglio vedere provocazioni. Perché è in calcio sui 15, arbitro? In calcio sui 15 perché era in tush, è tush e quindi il calcio è qua. Un po' di nuovo! Un po' di nuovo, un po' di nuovo! Qu'è un po' di nuovo! E faccio! Ok, ok, ok! Voi? Ho vitto! Ho vitto! Ho vitto! Ho va vitto! Grazie! Heads up! Advantage offside green! Pronto! Right away, 20! Four, not finishing. Go away! Arbitro! Go crazy, go! Hai visto? Hai visto? Arbitro! Buona, calma, calma. Chiamai il 2. Il 2 è trompissimo. Quando vai a pulire, lega, non solo di spalla. No, sì, come hai fischiato, mi sono fermato tipo... Ehi, Joshua! Il tempo prima, eh! Frec! Il tempo prima! Il tempo prima. Sì, tranquillo, tranquillo. Era prima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cartellino giallo ok numero 15 bianco cartellino giallo scusa al punto ok abbiamo fischiato dopo che ho fischiato mi ha dato un punto vantage off-side line-up Qualcosa di particolare? Ci sono azufati da là, è nato il resto, però non è cesso niente di particolare. Qualcuno ha fatto qualcosa di più grave. Sono da sanzionare tutte e due o sono da richiamare tutte e due? Cinque bianco e nove verde. È antigioco. Vieni. Vieni. Continuiamo a corso di diffonante qua. Non dirlo a me, non le faccio io. Allora. Butch in volta. Sì. E voi due, voglio da voi la collaborazione. Vi do 30 secondi per parlare. Sono stufo di richiamarvi per gente che viene qui per niente. Ok? Ehi, ehi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 La disciplina devi mantenerla anche qui davanti. Ho fischiato tre calci nell'arco di 5 minuti. Fai attenzione. si puoi dirlo no and molto chiaro allora lui quello che non 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 . 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